Ma è normale che certe cose le apprendo durante la sfogliata di turno di giornale perciò speriamo che Friend Clean sia orientato a coinvolgere il sottoscritto perché è una storia d'amore bellissima e come tutte le storie non deve finire perciò non so se sarà quest'anno, l'anno prossimo o quello che verrà le strade si uniranno in un amore indelebile come lo è sempre stato perciò speriamo che Totti e la Roma siano una parola tutt'uno Totti uno, anche se ero il dieci Io credo, sono abbastanza scettico sulla riuscita della Juventus per la decima conquista tricolore sono grossi enigmi, cominciare da allenatore, bravo, oltre l'egregio, da calciatore ma fare allenatore è altra roba, nella maniera più assoluta Poi leggo Gecko, leggo Suarez, bisogna vedere quali realmente siano i giocatori che possono venire a dare una mano e soprattutto portare qualità a quello che serve la Juventus per centrare questa benedetta Champions e per consacrarsi ancora nel campionato che non sarà facile nella maniera più assoluta Ora io sono venuto a Berschen, personalmente, a portare chiarezza e credo che sicuramente riusciremo a fare qualcosa di positivo e credo, come ho detto, anche nella presentazione cercheremo di fare qualcosa più degli altri e come concetto di rapporto cercare di fare quello che sa fare bene in Berschen è come una negazione, cercare di portare entusiasmo, di portare bel calcio e tutti insieme riusciremo sicuramente a raggiungere il nostro sottagguardo che è quello della promozione Grazie